Forza Allora, primo punto dell'ordine del giorno, approvazione per varie sedute precedenti, dove doveva brevemente, approvazione del punto della gestione per gli esercizi finanziari 2012, nomine e revisione del punto, nomine e revisione del punto terminale, giugno del 2013, giugno del 2016, approvazione del regolamento del Consiglio Comunale, regolamento comunale per i refermi e consultivi, regolamento cimiteriale e l'approvazione in materia di esorgimento gare all'evidenza pubblica per l'attivazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua biologico elettrico. Ci sono osservazioni, approvate, problemi, ok?